A Battipaglia ormai allarme e sicurezza soprattutto nelle periferie. Ennesimo colpo di ladri senza scrupoli. Furto in una farmacia in zona lago lungo la litoranea di Battipaglia nella notte tra domenica e lunedì. I malviventi hanno trafugato latte in polvere e farmaci vendibili senza prescrizione medica. Da una prima ricostruzione gli autori del furto, forse una banda di stranieri hanno agito a volto coperto, mettendo fuori uso la telecamera della farmacia. Non si esclude che gli stessi delinquenti possono essere riconducibili all'aggressione in casa ai danni di un operaio del posto durante un tentativo di furto. Sul colpo sono in corso le indagini della Polizia.